Cultura Nazionale torna a un appuntamento con un personaggio che è sempre un po' in primo piano su tutte le cronache, un personaggio che fa parlare di sé, che è il Generale Vannacci. Sì, noi portiamo gente che fa parlare di sé. Il Generale Vannacci viene il 26, mercoledì 27 marzo alle ore 21, presso l'Etrusco Tell, a presentare il suo ultimo libro, che è Il Coraggio vince. Il Coraggio vince è praticamente la sua vita da militare, ma è il completamento e la continuazione del mondo al contrario spiegato attraverso la sua vita da generale. È un bel escursus della sua vita, specifiche, concetti del mondo al contrario, soprattutto per quella gente che ancora non l'ha letto e dà dei giudizi affrettati. E quindi sarà un grande evento, abbiamo già centinaia di prenotati, la sala è molto capiente, ci sono ancora dei posti, ma il Generale Vannacci è stato entusiasta di tornare a trovare amici come noi di Cultura Nazionale. Cultura Nazionale ha già fatto diversi incontri, poi state lavorando anche per il futuro, noi ci avvantaggiamo sempre. Sì, il 20 di maggio abbiamo Luca Trapanese a Monte San Savino, che viene a presentare il suo ultimo libro, e poi l'8 di giugno faremo un grande evento in Piazza San Jacopo, che abbiamo già preso, dove faremo una mostra a scambio di beneficenza di libri usati, la gente potrà venire lì con una minima offerta, se vorrà potrà prendere libri usati, che gli interessano, e più ci saranno due eventi all'interno di questa manifestazione che durerà dalle 9 alle 18.30 la sera, con due grandi autori italiani che verranno a presentare i loro libri.